E facciamo questa piccola Sono un produttore fallito Che possibilità di inviarti Basi? Anthem grazie 100 bits Mandameli adesso Su Mandameli adesso in questo momento Perché le vengo ad ascoltare subito Grazie niente forfora storico Un anno manco è scritto niente Una dedica per un anno ci stava Vabbè mandameli adesso A questa mail qua Mandameli ora 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 A info.simonepanetti Chiocciagmail.com Dai let's go Let's go mandami questi bits Mandami questi bits Cooking bits Non mandatemi niente voi Solo lui solo lui Non si è nessun altro è autorizzato Tarkov boy Sì sono io sono io Dopo cioè fra poco adesso voglio andarmi a vedere Un attimo Muschio Selvaggio Ho visto un video che stava a vedere data Ho visto l'inizio Ma sono interessato Sulla città più inquinata del mondo Sono molto interessato Vorrei esaminarlo Ho visto due minuti ai video Vorrei vedermelo un tutto E poi andiamo direttamente su Tarkovia Che devo fare una missione importante Così almeno mi alleno E così Ho giocato un po' con Nanni Ieri vabbè chi c'era sa Nemmeno i piedi posso inviarti No Allora andiamo a vedere cosa mi avete mandato Perché sono sicuro che tutti voi Avete fatto i cazzoni Ehm Tra l'altro smettetela di mandarmi Le mail Con gli inviti all'assemblea D'istituto Ma che cazzo devo fare io all'assemblea All'assemblea di istituto Stabil mi dice Ciao voglio invitarti alla nostra assemblea di istituto Per caso Lino è disponibile Contattami su Insta Che devo fare io alla vostra assemblea? Affumami le canne Non voglio Non ci vado È strano È molto strano Cioè Non lo so E smettete di invitarmi ai vostri diciottesimi Non Che cazzo so Chi sono? Perché? Che cazzo devo fare ai diciottesimi? Devo cantare? Non lo faccio Dai ragazzine per il cuoricino Ragazzi per il messo No non vi Non vi Non mi invitate Da nessuna parte Sto aspettando io eh Sto aspettando i beats Sto aspettando i beats Non mi è arrivato niente Info punto Simone Panetti Chiocciagmail.com Se non mi mandi i beats adesso Non li ascolto mai più Minore di tre Minore di tre a te Tua madre vorrebbe invitarmi A andare al cinema con lei Io ci sto Ci sto Ci sto Basta che non si tratta di Assemblea Di istituto O che cazzo ne so Non voglio Non mi No No non voglio Zack ragazzi 9 mesi Bello Bellissimo Stella Stellina Sa 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 Ok il volume va bene Unlucky Zack grazie per i 9 Bella Giulietta Piccola Grazie mille per il prime Benvenuta Spero che ti troverei bene In questa fantastica famiglia Accogliente Dolce E affettuosa Ok Lorenzo Mi ha mandato un'email Peppe Fedish Mi sembra un'email normale Questa Questa Ti sembra un'email normale Sono specchiato Vabbè Sti cazzi Questa qua Ditemi voi Forse ci sono dati sensibili Qua Non voglio farvelo vedere Adesso ti mando un po' di amore E non puoi fermarmi Te li ho appena inviati Non so Mi sembra un'email normale Questa Eh Peppe Fedish Titolo C'è sta Peppe Fedish Che te guarda Vabbè Allora Mi l'hai appena inviati Niente Invito ad un'orgia Fra familiare a Natale Invito ad un'orgia Fra familiare a Natale Ecco il link del gruppo Whatsapp Non mi va Mi l'hai mandati Ok Foto cazzo E mi è arrivata una foto del cazzo Una foto del cazzo in mano Basta Grazie di sei mesi Non fate mandarmi queste schifezze Betty Grazie di due mesi Ok Beats Sei mesi di noi pelatino mio Un bacio Ok Ecco è arrivato un beat È arrivato un beat È arrivato un beat Ci provo Eccolo qua Lo vado ad ascoltare Betty Grazie di due mesi Cazzo posso fare a Capodanno a Roma Che cazzo ne so io Tutto Yoloun Grazie per aver arrivato la sub Asdot Grazie mille Fagiolo Che cazzo ne so io A Roma Vai a Circo Massimo Una volta a Circo Massimo Mi hanno rubato il telefono Vabbè No ma sai che con il covid Non ce sta Non ce sta più Circo Massimo Grande Simo Vuoi partecipare ad una spaghettata antifascista Facina che Ma questo è un invito Questo è un invito Assolutamente Sì non posso mai rifiutare una bella spaghettata antifascista Un po' di tortellini antifascisti Un po' di cose così Sono molto molto propenso Non ci crederai questa notte Stavo guardando per l'ennesima volta Il video di Corona Che cade in bici E ho scoperto di avere il cazzetto Sono così triste Che collegamento strano Questa l'ha ricordato Qual è il collegamento Fra Corona e Casca E il cazzetto Vabbè ma che cazzo ne so Ormai non vi ho preso più da retta Fammi sentire i bait È drill Non sono i tuoi Va bene Ok Allora ho sbagliato Vabbè ok Non sono i tuoi Ok eccoli eccoli Sono arrivati Sono arrivati Panetti Panetti 2 Panetti 1 Parto da Panetti 1 Questi sono i tuoi immagino Grazie 100 beats Grazie 10 stella Ok Ok un po' È un po' Un po' basic Poi vado sul 2 Bebobbo Ok un po' Aspetta Aspetta Puoi fare di meglio Panetti 3 Qu'è tutto rotto Voglio capire come attacca Moneta rara Non ci posso fare niente Mi puzza il cazzo di merda Mi puzza il cazzo di merda Mi puzza il cazzo di merda Annusa Che buono Mi puzza il cazzo di merda Non ci posso fare niente I ragazzini dei 3 mesi Bentornato E rotto Tutti Tutti rotti Tutti rotti Puoi fare di meglio Puoi fare di meglio Puoi fare di meglio Però continua 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 Puzzetta Minimale Perché Puzzetta Minimale Ho fatto una Puzz Puzzetta Minimale Puzzetta Puzzetta Minimale Puzzetta Puzzetta Minimale Vediamo un po' Se avete mandato altri Bitter Che tanto ormai Mi sa che è andata così Ecco Peppe Fetish 2 Peppe Fetish 2 Ok Mi fa ridere Bit migliore di quello Che hai ascoltato prima Ok Ok Andrea Andrea Ormai Ormai ci ascoltiamo Questi 2-3 bits Tutto esclamativo Svapo Non esiste il comando Ci hai provato Però Ci hai provato Anche questo Non fare di meglio Mi puzza il cazzo Mi prego Aiutatemi Non so più che fare Mi puzza il cazzo Ti prego Aiutatemi Non posso fare più l'amore Con la mia fidanzata Ti prego Aiutami Al puzza di cazzo O puzza di cazzo Nell'aria O puzza di cazzo Nell'aria Meglio avere le mani Al posto dei piedi O i piedi Al posto delle mani Potete fare di meglio Potete fare di meglio Eh Ruben Grazie mille I quattro mesi Grazie a tutti Fammi sentire Quest'altro Dai Sempre Jackie Ma questo Abbiamo sentito prima No Non è lo stesso Non è lo stesso Scusami Sì Ma hai fatto già Senti Ma che cazzo fai Che pazzo Ma forse l'ho toccato Due volte Vabbè Sono scemo io Bitta che se non te emozioni Sono in merda Ok Svapo croccante Con tutte tantissime Poi Vabbè Posso inviarti le mie cose da fare Vai invidiamole le tue cose da fare Facciamo insieme Puzzetta Minimale Mi puzza Mi puzza Mi puzza Mi puzza A me A me A me Mi puzza Il cazzo Mi puzza Il sacco Il secco A puzza Di cazzo Non so Come Posso fare Come Posso fare Perché Mi puzza Il cazzo Puzzetta Minimale Non mi piace Luca Grazie mille A se basta Seppe channel E mi manda La foto di un'altra persona Vabbè Beat the merda Ma cosa Happy Finito Vabbè Bellissimo Beat Geo Grazie Il migliore Che ho ascoltato Fino adesso Finito Era questo Basta Spero ti piaccia Ci ho messo Tanto a farli Oddio Ho una paura Fottuta Spera Fammi sentire Un attimo Panetti Punto mp3 I puzza Il cazzo Non so Come fare Quando esco Di cazzo Tutti mi guardano male Quando sono sull'autobus La puzza di cazzo Mi invade Attenzione Perché mi puzza Il cazzo Puzza Mi cazzo Questo era Il mio pezzo Su Panetti Punto mp3 Eeeh Poi c'è Così a caso E basta 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 Posso fare di meglio L'ho fatto Spero Aspetta Mi ha mandato una foto La controllo Ma no Non è una foto Perché Wtf Posso fare di meglio E l'ho fatto Spero Cioè Credo Dai Va bene Cosa stai vedendo Una fantastica Swimera Del fantastico Contenuto Su Panetti Sia Sia Guarda 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 Sono molto Vabbè A parte che non sono nel mio Nel mio Però Potete veramente Sbizzarrivi un po' Un po' Di più Non fate i type beat I sbizzarrite Vevo un po' di più Cioè Basta che scrivo Type beats YouTube E mi Trap type beats Prove Basta Stop Basta mandarmi Paolo Cannone Che vuol dire poi Paolo Cannone Boh vabbè Non ha Non ha senso Boys